buongiorno a tutti e benvenuti in casa facile felice oggi vediamo come si prepara la crema mo quella che in genere è conosciuta con il nome dulce de leche per questa preparazione occorrono un litro di latte 250 grammi di zucchero di canna un cucchiaio di zucchero bianco un cucchiaino da caffè raso di bicarbonato e una bacca di vaniglia naturalmente se vi piace un colore più chiaro potete utilizzare lo zucchero raffinato piuttosto che quello di canna procederemo in questo modo tagliate la bacca di vaniglia in due parti e aggiungete la latte portate a ebollizione lasciate subbollire un paio di minuti e dopo eliminate la bacca una volta eliminata la bacca aggiungete lo zucchero mescolate finché non avrà ripreso il bollore quando saranno passati 5 minuti dal primo bollore da quando cioè avrete messo lo zucchero mescolate il bicarbonato con il cucchiaio di zucchero bianco e aggiungite anche questo al latte il bicarbonato alzerà il ph del latte e farà in modo che questo non coaguli quando avrete mescolato sufficientemente lasciate subbollire il latte almeno un paio di ore mescolando di tanto in tanto ecco come si presenta la crema mou una volta che sarà trascorsa circa un'ora di subbollitura naturalmente non è ancora pronta bisognerà aspettare ancora un po' circa un'ora ancora come per tutte le conserve anche con la crema mou o dulce de leche si può vedere la giusta consistenza con la prova del piattino mettete una piccola quantità di prodotto su un piattino tenuto nel congelatore riposizionate al freddo per una decina di secondi una ventina di secondi e dopo fate la prova per vedere la consistenza vedete diciamo che ha bisogno di stare ancora una decina di minuti ma più o meno la crema è una giusta densità poi naturalmente a piacere personale se bisogna utilizzarla per il gelato piuttosto che in una torta si può lasciare un po più morbida se invece c'è bisogno di farne delle caramelle per esempio bisognerà che asciughi un po di più che si addensi un po di più quando la crema avrà raggiunto il grado di densità desiderato togliete dal fuoco e continuate a mescolare per quanto riguarda invece la conservazione se volete conservarla per un paio di settimane mettete in barattolini e tenete in frigo se invece volete conservare per un po più di tempo diciamo un paio di mesi allora sterilizzate i vasettini e tenuti al caldo riempite e procedete come per le normali marmellate rovesciate sotto e sopra e lasciate 4 o 5 minuti dipende dalla dalla grandezza del vasetto un po' di più Grazie a tutti. Lasciate capovolto per almeno 2-3 minuti, questi sono piccolini, 2 minuti andrà bene. Vi raccomando di mescolare continuamente nell'ultima mezz'ora di cottura, di modo che non si attacchi. Una volta aperto il vasetto, vi ricordo che va tenuto in frigorifero e consumato in un paio di settimane. Per questa ed altre ricette vi aspettiamo sul nostro sito www.casafacilefelice.org Arrivederci alla prossima preparazione.